1.12, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, cominciamo dal Venezuela, una crisi che ha ripercussioni diplomatiche in tutto il mondo che vanno in direzioni opposte. Gli Stati Uniti hanno chiesto in Consiglio di Sicurezza dell'ONU di riconoscere il Presidente dell'Assemblea Nazionale, Juan Guaidó, ovviamente perché avevano già detto di no, Cina e Russia hanno posto il veto neanche l'Europa, ha una voce unica, Federica Mogherini a nome dell'Unione ha detto che sta tenendo dei colloqui per arrivare a una soluzione democratica e condivisa, ma sono molti i paesi come Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna e Portogallo che hanno dato un ultimatum, 8 giorni per indire elezioni. Vediamo. Una crisi quella venezuelana che divide il mondo, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite lo scontro è aperto, rappresentato da un muro che si frappone tra Russia e Stati Uniti, con Mosca che, appoggiata dalla Cina, accusa Washington di avere pianificato un colpo di Stato e Washington che all'opposto definisce illegittimo e mafioso il governo Maduro e chiede il riconoscimento internazionale in qualità di Presidente ad Interim per Juan Guaidó. Una pasca al di qua dell'oceano, in Europa, vede Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna Unite nell'esigere da Caracas la convocazione di nuove elezioni entro 8 giorni, senza le quali la nuova leadership sarà automaticamente riconosciuta. Una linea adottata anche dall'Unione Europea con Federica Mogherini, l'alto rappresentante per la politica estera che ha chiesto nuove, trasparenti e credibili elezioni presidenziali. Un ultimatum inaccettabile ad un governo sovrano, fa sapere Caracas. Nessuno ci può dire se delle elezioni vadano convocate o meno, ha detto il ministro degli esteri venezuelano, ma intanto l'addetto militare del Venezuela negli Stati Uniti ha annunciato di riconoscere l'autorità di Juan Guaidó come legittimo capo dello Stato e ha chiesto ai militari di non partecipare alla repressione delle proteste contro il governo di Nicolás Maduro. Guaidó che ha ammesso di avere avuto in questi giorni incontri e contatti con alcuni membri del governo di Nicolás Maduro, anche se non ha specificato di chi si tratti. Nel frattempo abbiamo visto che non c'è una voce unica in Europa, ma sul Venezuela non c'è una voce unica neanche in Italia. Il governo è diviso, ma è diviso anche su altri argomenti come la TAV e la richiesta per processare Salvini per la vicenda della nave 18. Vediamo. Divisi su tutto, il Venezuela è l'ultimo, ma non il solo, fronte di polemica tra Lega e 5 Stelle. Conte, col ministro Moavero e la Lega vorrebbero associarsi ai leader europei e schierarsi con Guaidó, mentre tra i 5 Stelle sembra prevalere la linea Filo Maduro. Nemmeno su questo vanno d'accordo, commenta il PD. Una divisione che costringe il Premier questa sera a una mediazione. Auspichiamo in Venezuela una riconciliazione nazionale, dice Conte. Ma non è tutto. Poi c'è la TAV che divide. La Lega non è affidabile sui numeri, attaccano i 5 Stelle alludendo ai fondi e ai 49 milioni scomparsi. Ma soprattutto in ballo c'è la questione di Ciotti, la nave bloccata in mare ad agosto col suo carico umano, con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, per sequestro di persona. Stasera i senatori 5 Stelle informano che voteranno sì alla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania. Salvini ha processo. Una soluzione di buonsenso, dicono i 5 Stelle, anche perché lo stesso Salvini sarebbe intenzionato a farsi processare. Per molti il tentativo di trasformare la vicenda di Ciotti in una gigantesca campagna elettorale. Se mi portano a San Vittore, portate delle arance, ha detto Salvini, oggi a Milano, prima di lanciare un attacco un poco logoro, ma sempre efficace in campagna elettorale. Quello alle toghe, ai giudici di sinistra che vorrebbero fare i ministri. C'è aria di crisi di governo. Salvini e Di Maio giurano di no, ma Di Maio avverte i suoi. Mandare Salvini a processo significa far esplodere una bomba sotto il governo, a un passo dal voto europeo. In questi giorni, a largo di Siracusa, c'è una vicenda analoga. C'è la nave della Sea Watch con 47 persone bloccate a bordo. Oggi in città ci sono state delle manifestazioni in favore delle persone salvate dal mare, manifestazioni sulla spiaggia, ma anche lenzuale esposte ai balconi, fateri, sbarcare. Ma abbiamo visto, Salvini tiene il punto, dall'innoscente nessuno, semmai la polizia andrà a indagare se ci sono state collusioni con gli scafisti. La conferenza episcopale italiana si è offerta di ospitare i 47 che vivono in una condizione disagiata, come mostrano anche queste immagini girate, con un drone che illustrano come siano state allestite dei dormitori sul ponte protetti da questo telone. Il deputato radicale Riccardo Maggi ha detto di aver chiesto di salire a bordo, ma che gli è stato negato il permesso, anche se non ha specificato chi gli ha negato questo permesso. In Francia, oggi è stata l'ennesima giornata della protesta dei gireggialli, ma anche la prima notte gialla organizzata dal movimento che vede partecipare però sempre meno persone. Oggi a Parigi erano solamente in 4.000, ci sono stati invece i soliti violenti scontri. C'erano i casser, c'erano i black bloc e c'erano i gruppi di estrema destra. I disordini sono cominciati alla Bastiglia, giovani nero incappucciati hanno occupato strada in croce, hanno dato fuoco ad auto e motorini, si sono armati con San Pietrini e hanno usato le transenne di alcuni cantieri per erigere delle barricate. La polizia dal canto suo ha usato proiettili di gomme e granate assordanti, scatenando polemiche sull'uso esagerato di queste armi. Nel corso degli scontri è rimasto ferito ad un occhio Jerome Rodriguez, che stava filmando. Il suo nome è noto tra i gireggialli perché è molto vicino ad uno dei leader, Eric Drouet. Ed almeno 34 morti e più di 300 dispersi. Il bilancio del crollo della diga a Brumadinho, nello stato del Minas Gerais, in Brasile. Il crollo è avvenuto ieri. La maggior parte delle persone coinvolte dalla colata di fango, di acqua e di rifiuti tossici ferrosi, sono i dipendenti della società mineraria Vale, che sta lavorando in quella zona col gruppo anglo-australiano BHP. Il crollo ha rovesciato a Vale 13 milioni di tonnellate di rifiuti tossici, un disastro simile a quello che nel 2015 coinvolse la riga Mariana, sempre nello stato di Minas Gerais, in quel caso morirono 19 persone. Ma il materiale ferroso tossico, oltre 60 milioni di tonnellate, si riversò per centinaia e centinaia di chilometri inquinando i fiumi e causando il peggior disastro ambientale della storia del Brasile. Il presidente Bolsonaro ha creato una unità d'emergenza per i soccorsi in questa tragedia. una unità d'emergenza, una protezione civile che nacque in Italia sotto l'egida di Giuseppe Zamberletti, che si occupò anche dei terremoti dell'Irpinia e del Friuli, che è morto questa sera a 85 anni. Il servizio. Giuseppe Zamberletti era l'icona dell'italiano che risolve problemi e mette pezze alle catastrofi. Un monumento della Prima Repubblica. Quanti non hanno subito la damnazio memorie, democristiano di Varese dai modi spicci, radio amatore come Cossiga, ha detto Superzambo, Nembo Kid, gli affidarono i disastri peggiori e se la cavò sempre. E soprattutto non gli restò nulla attaccato alle mani, malgrado da commissario a grandi emergenze come il Friuli e il Dirpinia, avesse gestito milioni e milioni. E a parte una storiella di finanziamenti a Varese, l'unico avviso di garanzia gli arrivò per un eccesso di prudenza nell'85, aveva fatto sfollare 100.000 persone in Garfagnana sulla base di un'allerta degli esperti che prevedevano un terremoto catastrofico. Non accadde nulla e lo indagarono per procurato allarme, ma in piazza Pieve Fosciano andò una folla ad applaudirlo e ringraziarlo. La ricostruzione in Friuli era stata un successo. Zamberletti aveva chiamato sul posto 30.000 soldati e si era appoggiato sui sindaci, ma la protezione civile non era ancora nata. Dovette arrivare il terremoto dell'Irpinia con 3.000 morti. Il giorno dopo il terremoto in Irpinia c'erano stati fischi a Pertini. Il presidente si impuntò con Spadolini perché nascesse il Dipartimento della Protezione Civile. L'Irpinia è uno dei grandi scandali italiani, costato 60.000 miliardi. Zamberletti lo passò senza macchie, giubilato da De Mita che alla fine, mentre Superzambera con le mani nel fango della Valtellina, gli toglierà il ministero per darlo a Remo Gaspari. Il suo ultimo incarico pubblico è da presidente della società stretto di Messina nel 2002. Zamberletti vedrà molti altri terremoti e dirà che il problema sono anche gli italiani e la loro scarsa cultura nella prevenzione. Osservando i palazzi crollati, vedo troppe verande e pochi rinforzi ai solai. E adesso il campionato di calcio, primi anticipi, Milan-Napoli 0-0, Sampdoria-Udinese 4-0, due gol di Quagliarella alle soglie dei 36 anni, assegnato per l'undicesima giornata di fila. Vediamo. Spettacolo, emozioni a non finire. Difficile trovare un condensato di tutto ciò in una sfida finita a reti bianche. Un primo tempo di controllo ha lasciato il posto a una ripresa scoppiettante. Botta e risposta sui due fronti, poi l'ingresso del neoacquisto rossonero Piontec, vero spartiacque della sfida. Prima della grande occasione milanista, con Musacchio neutralizzato però da un reattivo Spina. Poi solo Napoli, o meglio Zielinski, che ha fatto tremare San Siro in occasione del sinistro, che ha sfiorato il palo, non però Donnarumma decisivo nelle due seguenti occasioni. Un pareggio che rischia da allontanare ulteriormente il Napoli dalla copolista Juventus, impegnata domani in casa della Lazio, mentre il Milan consolida momentaneamente il suo quarto posto. Nel poker di reti della Sampdoria sull'Udinese c'è il marchio indelebile di Fabio Quagliarella, il quale, con altrettanti rigori, si porta solitario in testa alla classifica marcatori a quota 16, eguagliando il record assoluto di Gabriel Battistuta in gol per 11 partite consecutive. Il polacco Linetti e Manolo Gabbiadini completano la goleada blucerchiata. Tutto molto facile anche per il Sassuolo sul Cagliari. Apre le marcature Locatelli, che riprende la corta respinta di Cragno. Babacar raddoppia sul rigore, mentre il definitivo 3-0 lo realizza il neo-entrato Matri a porta vuota. Ritroviamo alla grande Sofia Goggia sulla pista di Garmisch. L'Azurra, che è tornata in gara dopo una brutta frattura al Malleolo, si è piazzata seconda dopo l'Austria-Kashmid-Ofer. Un risultato importante per la sciatrice Azurra, che aveva alle spalle prima di questa gara solo qualche ora di intenso allenamento. 1.23, ci fermiamo qui, ma come sempre domani mattina alle 7 si ricomincia con l'informazione. Arrivederci e buonanotte.